Andrea ci sei? E lui mi dice sì ci sono perché praticamente ci siamo appena scambiati il ciao come stai come va all'interno del solito face book ma nello stesso tempo abbiamo anche in diretta perché noi siamo così noi siamo live. Ciao Andrea. Ciao ciao. Siccome ti ho beccato un paio di giorni fa con 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 Alba in un'immagine che passava così tra le home di di Facebook e devo dire la verità complimenti anche per la musica che suoni che è veramente bella tosta. Grazie. Si stava parlando di Riccione e tu dove sei in questo momento? Ma io in questo momento sono in sono in studio con l'aria condizionata perché è caldissimo. Beato te. Però fuori giornate di sole spettacolari quindi è chiaro. Andrea Storch che tra le altre cose sta girando anche bene per quanto riguarda le serate dove dove andrai tra luglio e agosto quali sono i tuoi appuntamenti e quali sono i dati che magari voi voi raccontarci? Allora guarda venerdì prossimo mi muoverò verso il sud e sabato sarò a Scalea. Ah e ci becchiamo lì perché siamo insieme insieme sabato sera lo sai? Eh è fantastico. Ci becchiamo al pop contest insieme a Umberto Rabazzetta insieme a tutti i nostri amici di questa bellissima serata all'hotel Santa Caterina. Esatto esattamente poi mi fermo qualche giorno suonerò farò un aperitivo eh sempre lì in zona al lounge Gerova. Ah fantastico bel posto bel posto bel posto agosto. Agosto? Agosto invece mi sposto in in Sardegna per un paio di date eh tra l'otto e il il 10 di agosto e poi ho diverse cose sarò in giro diversi private party eh continuerò a seguire il POV sarò alla finale a Parma Nova il 30 di luglio. Sì. E poi eh il il dunque il 18 parto per Londra anche se perché ormai è finita l'estate no? E sono lo smokehouse studio per finire una produzione che ho iniziato in primavera. Bello 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 bello. Belle cose soprattutto con con tanta buona musica. C'è turmentone quest'anno secondo te a livello discotecaro oppure ne siamo privi? Ma a livello a livello discotecaro sicuramente la zona quella di riferimento eh che ho visto è il Salento. Stanno passando tutti di lì eh dall'estero e tutto. Vedo un po' di di calma sui locali, gli spazi grossi anche qui in in riviera Adriatica. Tra rimedicione non è che ci sia c'è un po' una controtendenza rispetto a qualche anno fa no? Ma si si va sicuramente su situazioni con meno gente, più curate, con idee più originali. C'è un grosso ritorno al vintage, quindi rivisitazioni di di musica eh del primo dal primo novecento fino a al cinquanta sessanta rivisitate con sonorità moderna. Tu Andrea stai lavorando su qualcosa di di nuovo sul tuo progetto? Io ho in circolazione in radio eh un singolo con Ornella Vanoni che si chiama Buona Vida, Buona Vita e Paolo Fresu. È un brano tropicale a battuta bassa eh è un remix eh che però è con tutto il mio album. Sulle centoventi? Centoventi battute? No o meno o meno. Siamo intorno ai centodieci. Ah però. Ma sono scese anche le BPM eh devo dire eh questo è un brano che si balla in apertura e in chiusura non spinge molto ambient eh ad alto questo caldo eh che si sta becchiando. Sì. E poi esce l'album eh a settembre eh con un'etichetta di Hong Kong che si chiama eh Plaza e all'interno diversi brani elettronici ci sono molti ospiti anche storici c'è una chicca c'è Ian Anderson del Getrotallo. Ma dai. Il suo flauto. Ma fantastico. Un po' più veloce eh. L'abbiamo fatto e l'abbiamo registrato insieme qui in Italia. Mi è piaciuto. Bellissimo bellissimo hai citato uno dei nomi storici a livello della musica rock e e tornare praticamente a collaborare con un calibro eh così a livello di di musica. Beh complimenti eh. Grazie. Complimenti davvero. Senti Andrea io sono contento di averti incontrato in questo spazio velocissimo. Poi ci vedremo sabato all'hotel Santa Caterina Scalia in Calabria. Eh staremo bene tutta la sera ne sono convinto perché avremo ben donde e tante chiacchiere da affrontare in quel bellissimo contest firmato Umberto Labozzetta e ti ringrazio e magari ci sentiamo appena il tuo lavoro sarà pronto per parlare ancora insieme. Assolutamente sì. Ok? Ti ringrazio. Saluto gli amici di 104. Ciao chiaro. Ciao Andrea. Ciao 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 ciao. Ciao buona serata.